Buonasera amici del tubo e benvenuti a una nuova top 25! Quanto tempo eh! Si vede tutto! Eh sì, le cose non sono più come prima. Ho un secondo schermo e questa è una cosa bella. Ma ho anche un lavoro e questa è una cosa sia bella che brutta. Le giornate si sono fatte corte, frettolose, regolari e più che stancanti perché ho la fortuna di non fare granché fatica in ufficio, stanche di per sé. Quando ti ritrovi fuori casa 7-8 ore al giorno e ti riempi la testa di assegni, fatture, note di credito e bolle di trasporto, quando torni a casa hai ancora il desiderio di essere te stesso e dedicarti alle cose che più ti piacciono come ad esempio scrivere per il canale, ma il desiderio spesso non è più seguito dalla volontà la quale si accontenta molto più facilmente di sdraiarsi da qualche parte a guardare ininterrottamente le repliche di Masterchef Italia. Chi vince Masterchef? La Lida è già scritto. Brava Lida! La Roma la manda. È meglio di metà delle serie televisive che conosco. Tuttavia, fermo restando che io abbia ancora quel minimo di voglia e vuoi quel minimo di pazienza per aspettarmi, il canale ha ancora qualcosina da offrire, sebbene in formato ridotto. Questa Top 25 arriverà fino alla sedicesima posizione, seguendo il format di un episodio a video e un video a settimana, per un totale di due mesi e mezzo a partire da ora. In questo modo posso guadagnare tempo e cercare di mettere un punto definitivo sul prossimo video di Tolkien, che so che tutti voi o quasi desiderate, mi dispiace, a questo giro butta male. La Top entrerà poi in uno stato di pausa, durante il quale cercherò di caricare altri video e poi riprenderà raggiungendo il podio con molta calma. Questa Top, comunque, rischia di essere leggerissimamente più ambiziosa della precedente, la quale era già stata leggerissimamente più ambiziosa della prima. Spero di onorarla al meglio. Mi è stata suggerita da più di un utente nei mesi scorsi in forma indiretta, ma soltanto uno di loro ha formulato la domanda perfetta che ha acceso il mio interesse e per questo merita il premio consueto una scrittona tamarra di dubbissimo gusto, figlia drogata dell'internet recente. Purtroppo, ma con questo non intendo affatto attribuire colpe al diretto interessato, il suo nick non è, come dire, qualcosa come XX Dragon Slayer of your sister in a wheelbarrow 9666, ovvero qualcosa di tamarro già di suo. Temo che l'effetto potrà essere ancora più buffo di quanto preventivato, dato che devo ringraziare nient'altro che Marco. Tutto qui. Marco, questa è per te. Goditela tutta. Prima di cominciare, eccovi le solite regole. 1. Questa Top 25 tratterà una somma dei miei personaggi preferiti di fantasia all'interno di opere narrative. Non sarà fatta alcuna distinzione dei ruoli. Potranno essere protagonisti assoluti, villain, deuteragonisti, autentiche figure secondarie, anziani seduti su una panchina, qualsiasi cosa, purché parto della fantasia dell'autore. Non vi sarà spazio per figure storiche realmente esistite, dato che per quanto esse siano apparse in numerose opere, l'hanno fatto sotto forma comunque di invenzioni narrative, non di certo nella loro forma più autentica. La storia è piena di personaggi meravigliosi, ma servirebbe una Top 25 apposta per trattarli tutti come si deve. Chiedetemela? Oh sì? Chiedetemela pure, senza indugi. 2. I personaggi proverranno da ogni forma di racconto esistente. Romanzi, film, serie televisive, anime giapponesi, fumetti, videogiochi, il mezzo non sarà oggetto di discriminazione. E potranno apparire anche più personaggi in una singola posizione, purché siano affini, sia per un discorso di tematiche o appartenenza al medesimo universo, o per altre motivazioni che riterrò coerenti. 3. Ed è sempre importante specificarlo, le posizioni sono indicative, stiamo pur sempre facendo un gioco, e dettate unicamente dall'amore personale. Non sarà una lista di personaggi migliori, ma di preferiti, che risponderanno esclusivamente ai miei gusti e alle mie esperienze personali. Vi prego di non offendervi per eventuali omissioni o scelte ardite, questi video non risponderanno ad alcun bisogno di oggettività. Detto questo, amici di YouTube, benvenuti ufficialmente nella mia Top 25 dei personaggi di fantasia preferiti. Il solito viaggio tra emozioni, ricordi ed evoluzioni intellettuali di una persona che non ha vissuto una vita, come dire, avventurosa, quindi non ha nulla da insegnare a nessuno di voi, ma a quanto pare provate piacere a udire la mia voce e io ne approfitto come il solito parassite, che sono comunque posizione numero 25. Stephen Barley è un uomo irreprensibile, un procuratore di grande successo che concorre alla carica di sindaco di New York alle prossime elezioni. Barley è un grande oratore, un illuminato interessato alle cause umanitarie, educato e rispettoso di chiunque. Non ha figli, è vedovo, si è ripreso con qualche difficoltà da un grave incidente d'auto, una storia che non può non migliorare ulteriormente la sua posizione agli occhi dell'elettorato, e vive in una casa di campagna in compagnia di un anziano disabile, il suo ex professore, che accudisce con affetto. A causa di tutto ciò, Stephen è sospetto, ecco il motivo perché uno dei suoi oppositori si reca dal dottor Lanning e lo forza ad accettare una proposta ritenuta da tutti assurda, Barley è un robot. Non esistono prove fotografiche del procuratore mentre mangia, beve o dorme, il che è un bene, significa che la sua privacy è stata rispettata, ma è anche un male, dato che anima le voci secondo cui egli sia un essere artificiale, non meritevole di diritti e di conseguenza di poter concorrere alla carica di sindaco. Viene chiamata Susan Calvin, robot psicologa dell'azienda costruttrice di cervelli positronici, la tecnologia dietro le macchine si è evoluta a tal punto da ammettere l'esistenza dei robot psicologi, dato che gli umani e i robot concepiti per assomigliare il più possibile a questi ultimi sono, ahimè, idiosincraticamente diversi. Barley accetta la proposta divertito e dietro richiesta di Lanning e Calvin addenta una mela e deglutisce. Contenti? No. Se qualcuno ha progettato un robot adatto a imitare gli umani, è possibile che l'abbia dotato di un sistema capace di incamerare del cibo ed espellerlo intatto a distanza di tempo senza intaccare circuiti interni. Barley deve consumare un pasto completo di fronte alle telecamere. Egli non lo accetta, perché non è tenuto a farlo. Allora, l'oppositore politico fa in modo che un tizio scatti di nascosto una radiografia del corpo di Barley, ma si scopre che il procuratore indossa abiti schermati. Dunque è un robot. Perché un uomo dovrebbe proteggersi contro simili eventi? Barley spiega che è necessario farlo. È un gesto illegale e l'uomo si era premonito. Vuole dimostrare un punto. È un avvocato oltre che un essere umano. E il valore dell'intimità garantito dalla legge è più importante di qualsiasi stupida illazione riguardo la sua vera natura. La questione si risolve a ridosso del voto una volta per tutte. Un manifestante sale sul palco dietro invito del politico nel corso di una manifestazione e prega Barley di colpirlo al volto. Dopo qualche insistenza, Steven lo fa. Fatto. Sono umano. Voi siete convinti? Nel futuro scritto da Isaac Asimov lo sono. Ogni robot è programmato per obbedire alle tre fondamentali leggi della robotica. Uno. Un robot non può recare danno a un altro essere umano né permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Due. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché questi ordini non contrastino alla prima legge. E tre. Un robot deve salvaguardare la propria esistenza a patto che quest'autodifesa non contrasti con la prima e la seconda legge. Colpendo un essere umano al volto, seppur su richiesta, Barley ha dimostrato di non essere un robot. Non conta uccidere l'umano, le macchine colgono gli ordini alla lettera, si parla di Re Cardano. E un pugno in faccia è Re Cardano a un essere umano. Barley vince le elezioni e sono tutti contenti, a parte gli oppositori, ma la robot psicologa Calvin non è convinta. Anche se Barley avesse obbedito alle tre leggi della robotica, non si sarebbero potute escludere a priori entrambe le teorie. Le tre leggi regolano i rapporti tra robot e umani legandole ai concetti di altruismo e sacrificio. Se Barley le avesse seguite a tutti i costi, non colpendo il manifestante, egli sarebbe potuto essere un robot o semplicemente un'ottima persona. Il problema è risolto, tuttavia, afferma il procuratore, ora sindaco. Io l'ho colpita. Al che Susan replica, perché? Siamo sicuri che lei abbia colpito un essere umano? Il racconto si chiude nel dubbio, ma alla domanda se la dottoressa Calvin riesca ad accettare che un possibile robot possa assumersi la responsabilità di governare gli umani, la donna risponde, sì. Cosa le ho detto prima, signor Barley? Ho un robot? Ho un'ottima persona, il che non risponde ancora all'interrogativo di base. Vi cito testualmente le parole di Calvin. Io amo i robot. Li amo molto più degli esseri umani. Se fosse possibile creare un robot capace di assolvere incarichi amministrativi, credo che sarebbe un funzionario ideale. Grazie alle leggi della robotica non potrebbe mai recar danno agli esseri umani, non potrebbe esercitare alcuna tirannia, non sarebbe corruttibile, né avrebbe un comportamento stupido o condizionato da pregiudizi. E dopo aver svolto la sua funzione per un periodo di tempo adeguato, lascerebbe la carica, anche se fosse immortale, perché sarebbe impossibile per lui ferire l'orgoglio degli esseri umani facendo loro sapere che a governarli era un robot. Ripeto, sarebbe proprio il funzionario ideale. Va bene, non prendiamocela con Barley. Anche se fosse un robot, sarebbe lo stesso il miglior candidato alla guida degli instabili, corruttibili umani. Le leggi della robotica garantiscono che le macchine non possano intentare un colpo di stato contro di noi, ci arrecherebbero danno, quindi il grande conflitto sociale alla base dell'intelligenza artificiale non persiste, siamo al sicuro. Le tre leggi vengono prese alla lettera. La prima parla di recar danno. Mentire è recar danno? La parola non figura nelle leggi, quindi un robot la interpreta come desidera. E per una macchina si evince che mentire sia sbagliato solo quando tale gesto reca danno agli esseri umani, che poi è il motivo per cui noi mentiamo più spesso, per non deludere o rovinare la giornata a qualcuno. Questa omissione logica sarà alla base della conquista artificiale della società umana nel racconto Conflitto Evitabile di Asimov, Quello che vi ho raccontato prima era la prova. Sono passati anni. Stephen Byerly ha fatto carriera ed è divenuto coordinatore di una delle cinque macro-regioni in cui è stata suddivisa politicamente la Terra. Ogni aspetto della produzione economica è stato affidato a enormi calcolatori positronici suscettibili, ovviamente, alle tre leggi della robotica. Tuttavia, all'interno dei loro calcoli e delle loro disposizioni si verificano cali di produzione, trasferimenti di impiegati senza chiare ragioni, di lazioni nei tempi delle costruzioni dei progetti. Le macchine vengono interrogate su questo dilemma e non si rivelano in grado di rispondere asserendo che i dati non permettono loro di computare una soluzione. E Susan Calvin, ormai settantenne a risolvere l'enigma, essendo state poste al servizio dell'intera umanità, i robot hanno adottato la prima legge in macroscala, modificandola in un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento l'umanità riceva danno. Poi, ci hanno giudicato. E hanno visto il ventesimo secolo, oltre che tutta la nostra storia, una infinita serie di conflitti per i motivi più disparati e scellerati. Le macchine sanno benissimo cosa sta succedendo, ci stanno proteggendo da noi stessi, mentendo. Stanno rimuovendo, tarpando i focolari della rivolta. In questa accezione, mentire non reca danno all'umanità, anzi, la preserva. E grazie alle macchine che l'umanità di Asimov sarà in grado di progredire fino a diventare un impero millenario occupante mezza galassia. Ma a che costo? Ho iniziato a macinare storie dallo spazio da piccolo. Galassie, singolarità spazio-temporali, pianeti estremi, il vuoto siderale, per poi spingermi mano a mano verso casa, verso l'umano, non verso l'astratto fisico-quantistico, come se il mio punto un inizio gioco a causa di un bug fosse stato settato a qualche decina di migliaia di anni luce dalle futili, benché alquanto spettacolari vicende dell'uomo. Di conseguenza, ho spesso dato per scontato l'esistenza di androidi al servizio posti sullo stesso livello sociale degli esseri umani. Ci è voluto un po' prima che potessi accorgermi di loro e infilarmi nelle questioni asimoviane. Nella mia immaginazione primigenia, i robot rappresentavano una questione facile. Sono artificiali, sono programmati, non sono creature, sono solo imitazioni dell'uomo, creati perché... beh, perché no, si poteva. Era come avere un sacchiello pieno di Lego che io avevo. Se hai pezzi, costruisci. Non lo fai per un motivo preciso, lo fai perché puoi farlo, perché ne hai la possibilità. Eppure, i robot che ebbi sotto gli occhi durante i miei primi anni di esistenza, pur appartenendo alla medesima saga cinematografica, rappresentavano i due esatti opposti della natura, A e B. Ash, interpretato da come sarebbe potuto apparire Bilbo Baggins nella Hobbit grazie a una macchina del tempo e l'ufficiale scientifico a bordo del vascello Nostromo nel primo Alien di Ridley Scott prima che questo magnifico regista si rincoglionisse cercando di inseguire se stesso con Prometheus e Covenant che io reputo due ciofeche colossali, soprattutto il secondo. Ash si svela come antagonista e come android verso la metà del film con somma scioccata sorpresa del piccolo me. Prima della scena incriminata Ash sembrava soltanto un uomo di carattere algido, la mente pensante dell'equipaggio in realtà la sua presenza coatta a bordo della Nostromo era stata imposta dalla compagnia Weyland-Yutani proprio per far sì che un esemplare di xenomorfo venisse catturato e condotto sulla terra per esperimenti indipendentemente dalla sicurezza di Sigourney Weaver, John Hurt, Harry Dean Stanton e soprattutto John Silgatto. Va da sé che quindi Ash non rispetti le leggi della robotica anzi che sia stato imbarcato unicamente per arrecare danno agli uomini se necessario e il robot è al corrente di questo forse anche qualcosa in più forse ha le leggi incastonate nella programmazione però a pensarci bene quando Ripley l'obbliga a eliminarla Ash comincia a battere i coperchi il liquido bianco contenuto all'interno del suo corpo artificiale fuoriesce come sudore e il robot assume un atteggiamento nevrotico segno che forse le leggi e l'ordine della Weyland sono entrate in conflitto e in questa battaglia di stringhe di codice il secondo sta vincendo ma a fatica il tentativo di Ash di uccidere Ripley facendole ingoiare una rivista arrotolata è lento goffo e non particolarmente convinto quando la testa di Ash viene riattivata dall'equipaggio bisognoso di spiegazioni l'androide confessa ma posto di fronte all'inevitabile distruzione Ash si lascia andare in uno dei momenti più straordinariamente inquietanti di Alien a considerazioni personali lo xenomorfo viene descritto dal relito robotico come un essere perfetto un sopravvissuto avulso al senso di moralità lo ammira dubito che la Weyland avesse instillato nel suo cervello queste frasi è un androide che ha notato la supposta perfezione dell'alien e se ne è invaghito in quanto esso stesso è una creatura votata alla perfettibilità la base su cui pessimi sceneggiatori hanno costruito il personaggio di David in Prometheus e Covenant nel mondo di Alien e nell'autocoscienza delle macchine è quasi urlata senza conflitto di nascita è già conclamata e nessuno si ostina ad accorgersene e ora che sappiamo essere stata la vita artificiale terrestre a perfezionare lo xenomorfo stesso l'unico dettaglio interessante dei film recenti la questione assume la forma di un nastro di Mebius la perfezione che genera perfezione e la coltiva a discapito degli dèi i creatori così fallaci e insignificanti di fronte all'inaspettata maestosità del progetto che essi avevano disegnato come mera servitù è un dato di fatto per Ash devo proteggere gli umani ma la perfezione è più preziosa è mia mi appartiene io sono loro e lui è me e voi siete di troppo ma il mio amore autentico è dato dalla controparte speculare di Ash Bishop di Aliens scontro finale di James Cameron interpretato da quella Shelby Cobra meravigliosa che è Lance Erickson quando paragona qualcuno a una Shelby Cobra significa che gli sto facendo un grande complimento Bishop è un modello avanzato di androide il sequel di Alien è ambientato 57 anni nel futuro un robot che è stato portato allo stadio base scevro dei difetti di programmazione che devono aver fatto svalvolare Ash a bordo della Nostromo le leggi della robotica di Asimov si applicano in toto alla sua figura senza il sacrificio di Bishop la missione sarebbe fallita in più punti nel corso del film tuttavia una delle scene più pregnanti e semplici nonostante tutto su Bishop è all'inizio quando il soldato Hudson convince l'androide a fargli il giochetto del coltello a velocità inusitata Bishop è perfetto e non sbaglia un colpo o quasi la lama lo colpisce a un dito e Bishop tenta di nasconderlo con una vaga vergogna anche in questo caso la macchina non è una macchina è un protumano sintetico che sbaglia e nel suo sbagliare ha cercato di danneggiare se stesso piuttosto che un umano ma ha pur sempre mancato il bersaglio rimpiango i tempi in cui bastava così poco per spiegare così tanto a proposito di un personaggio Bishop viene quasi distrutto dalla regina Alie e ne viene posto in criostasi ma lo schianto della nave all'inizio di Alientrello danneggia ulteriormente rendendolo inservibile e difficile da recuperare nella miglior scena di un sequel che a mio parere è stato fin troppo bistrattato dalla critica e dal pubblico Bishop viene riattivato e mostra sincera gioia nel poter rivedere Ripley un'ultima volta poi attua una scelta di autodeterminazione commovente il suo corpo è troppo danneggiato non tornerebbe mai come prima in questa situazione testuali parole è meglio essere niente non c'è verso nonostante la rinnovata programmazione fedele questa volta ai bisogni dell'uomo e senza la spada di Damocle dell'ordine della Weyland è chiaro Bishop si eleva in tutta la sua dignità di essere vivente del tutto cosciente di se stesso e con dignitoso coraggio invoca una dolce morte la scena mi commuove a distanza di vent'anni meglio essere niente ricorderò per sempre quel sussurro più umano dell'umano gli androidi occupano un ruolo marginale nella riflessione filosofica alla base dei vecchi alien ma la loro presenza urla e strepita in ogni scena in cui appaiono la questione non viene mai presa di petto eppure è lì diretta già coltivata oggi mi sorprende che lo xenomorfo riceva così tante attenzioni e queste creature no nel futuro oscuro della saga non sono loro la più straordinaria cosa dell'universo sono felice che almeno una cosa Prometheus e Covenant l'abbiano capita e abbiano cercato seppur maldestramente di porla sotto i riflettori come principale condanna o sintomo di rivoluzionario cambiamento per la decadente situazione umana osereste dire che Bishop non sia un'ottima persona io avrei votato per lui più di ogni altro uomo sei un androide avrei dovuto immaginarlo nessun essere umano è così compassionevole credevo che gli esseri sintetici fossero tutta logica e cagate del genere tu non sei una vecchia psicopatica grazie a tutti